Altro colpo di scena nella vicenda a Rigopiano. Infatti, nella giornata di oggi, il GIP di Pescara Elio Bongrazio ha archiviato le denunce presentate dall'allora capo della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Murriana, nei confronti dei carabinieri forestali. Nella denuncia, Murriana aveva ipotizzato falso ideologico e materiale da parte degli investigatori in merito alla vicenda delle telefonate fatte dal cameriere dell'hotel Rigopiano Gabriele D'Angelo alla prefettura di Pescara proprio la mattina del 18 gennaio, giorno della tragedia, dove persero la vita 29 persone. Nelle quattro pagine, il giudice spiega come, per il falso materiale, non esistano elementi per sostenere l'accusa e che, continua Bongrazio, non vi è alcun elemento che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante. Dunque, le perizie informatiche hanno smentito le accuse di Murriana nei confronti del tenente colonnello Anna Maria Angelozzi, del marisciallo Carmen Marinacci e dell'appuntato Michele Brunozzi, per cui non ci fu nessuna manomissione o falso nella trasmissione di documenti informatici. Il GIP Bongrazio ha dunque accolto la richiesta di archiviazione dei PM Mantini e Campochiaro, che nel loro documento avevano già sottolineato come la denuncia di Murriana sia frutto di una personalissima e sindacabile ricostruzione, che appaiono alla luce delle concludenti risultanze procedimentali anche di Valenza inspiegabilmente denigratoria in danno degli indagati. Bongrazio annuncia poi che sulla vicenda è aperto un altro fascicolo d'inchiesta con altri indagati.